Ehi, volete darci una mano? Katua, manekui! De qua, è andata, de qua! Perché non ci hanno dato qualcosa per scaldarci quando ci hanno chiusi qui? Stringiamo le luci, luci! Sono felice che sia morto! Prima gli elicotteri ci sparano un po' e poi di colpo spariscono! Non voglio lamentarti, ma... è strano, no? Sei morto? Vai, la esenza! Ho perso! Trovatela, ora! Se è celato anche il muccio nera... Catwoman, è qui! Pistola, lì... ... Per fortuna il capo è tornato, eh? Scusa, hai visto tutta la roba che aveva? Scommetto che era della gatta. Ha mandato Poly B a far saltare in aria il nascondiglio segreto di quella puttana. Speriamo che l'esplosione faccia piovere coriandoli di gatta su tutta Arkans. Che ci fa lei cu... Grazie a tutti. Sembrava proprio soddisfatto di sé per me. Già, non credo ad aver mai... I've got the woman! In arrivo! Non hai nessuna speranza contro di noi. Arkham City sarà la tua barra. Ehi, catwoman! Ti faremo soffrire, catwoman! Ti faremo soffrire, catwoman! Ehi, catwoman! Grazie a tutti. 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 C'è di peggio. Ha anche una specie di mostro sotto l'iceberg lounge. Che diavolo ci fa qui? Non oserà tornare qui. Oh, certo, tornerà dritta qui per riavire le sue cose. E a quel punto voglio che voi la facciate saltare in aria. Non vedo l'ora, signore. Non vedo l'ora, signore. Bene, questa è la nostra occasione. Si dice che il Joker sia morto e abbiamo visto tutti com'è finito il nanetto che aveva questo posto. Siamo il futuro di Arkham. Siamo il futuro di Gotham. Nessuno oserà fermarci perché tagliamo in due, chiunque ci provi. Ti stai aspettando. Grazie. 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 Sì, non è vero. Scusa Arv, proprio non è serata eh? Ora dimmi dove hai nascosto il resto delle mie cose o ti spacco l'altro lato della faccia Ne ho preso metà e ho dato via il resto, ho vinto puttana Basta con questa storia del due Non fa altro che procurarti dei guai Non riesci a starmi lontano eh? Non posso darti torto C'è ancora da fare ad Arkham City Allora buona fortuna, qualche giovanotto intraprendente ha deciso di prendersi le mie cose E io le rivolgo indietro tutte Stanno aspettando, devono costruire un'altra prigione o cosa?